Dopo l'emozionante fischio d'inizio dello scorso weekend che ha inaugurato i campionati regionali, domani si torna in campo per la seconda giornata. Tre gli anticipi in eccellenza, due invece nel torneo di promozione. Partendo dalla massima serie regionale, il Venafro ospiterà la polisportiva Gambatesa. Gli undici di Mister Capaccione hanno iniziato con il piede giusto, portando a casa la prima vittoria stagionale, 3-0 sul Baranello. Sarà l'inizio di una lunga serie? Staremo a vedere. Di certo la formazione fortorina, che è riuscita invece a conquistare un solo punto nella sfida di domenica scorsa contro il Boiano, terminata a reti bianche, non dovrà abbassare la guardia. Al di Ianni di Cerro al Volturno, designato fischietto di gara Valerio De Castro di Campobasso. Di scena al Colalillo, Boiano, sesto campano. Se i matesini, dopo lo 0-0 del venditti di Gambatesa, approfitteranno del favore del campo per centrare lo specchio della porta e dare del filo da torcere agli ospiti, il sesto campano non perderà occasione per dare continuità al 3-0 rifilato al San Leucio Volturnia. Un avvio positivo che si aggiunge ai successi già ottenuti in Coppa Italia. Dirigerà la gara Daniele Picciucco di Campobasso. Chi ben comincia è a metà dell'opera, proverbio questo che non vale per le prossime due avversarie, Campobasso 1919 e Baranello, focalizzate infatti a riscattare il K.O. rispettivamente contro Campo di Pietra e Venafro. Siamo solo all'inizio e le due squadre hanno ancora tempo per dar prova delle loro abilità. La sfida sarà avvaiata da Francesco Scarati di Termoli. Per quanto riguarda il torneo di promozione, il Trivento sarà alle prese con la matricola Quartiere Campobasso Nord ed il Termoli 2016 ospiterà l'Altilia Samnium. All'Acqua Santiani di Trivento, sotto la direzione di Francesco Di Domenico di Isernia, i padroni di casa cercheranno di rimediare al sonoro 5-0 contro la Virtus Gioiese, mentre la neopromossa Quartiere Campobasso Nord, dopo il 2-0 casalingo sullo Spinete, non lascerà nulla al caso per continuare con il piede giusto la nuova esperienza in promozione. Gara interna per il Termoli 2016, che come gli ospiti dell'Altilia Samnium è alla ricerca dei primi tre punti stagionali. Gli adriatici sconfitti di misura dalla Maranea, l'Altilia Samnium per 2-0 dal San Pietro in Valle. Sarà una prova importante per entrambe, quella di domani al Cannarsa. Avvaiarla Michele Di Lembo di Campobasso. Il fischio d'inizio per tutte le gare elencate è fissato regolarmente alle ore 15.